Per quello che riguarda le persone che sono oggi in piazza, se lei pensa che noi a nostra volta siamo in piazza con un presidio davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze per ottenere una firma su un decreto attuativo per poter versare i soldi che ci siamo decurtati all'interno di un fondo destinato al microcredito per le piccole e medie imprese, questo dà un pochino il senso della cattiva capacità della politica di rispondere alle esigenze sia dei cittadini che dei parlamentari. A questo proposito vorrei far vedere dal web un piccolo filmato, se Dario ce lo mette in onda, che è proprio questo del Restitution Day, la restituzione a cui facevate riferimento, io pensavo che lei arrivasse qui con quello striscione enorme, eccolo qua, 2 milioni 563 mila 16 euro e 7 centesimi, niente male? No, assolutamente niente male. Non avete mangiato più? No, no, abbiamo continuato a vivere in maniera più che dignitosa, considerando che siamo tutti cittadini, io personalmente vengo da una realtà che ritengo totalmente dignitosa, anche essa, di 900 euro mensili, oggi ne percepisco più di 3 mila, ho anche un rimborso spese, quindi dare indietro quello che non è rendicontato e quello che ci arriva e che non crediamo sia giusto debba essere dato per un'attività politica, lo restituiamo volentieri ai cittadini, lo restituiamo allo Stato. Allora, qui fioccano i bravi alle spalle della senatrice. Senta, ma il fatto di togliere il finanziamento dei partiti che è stato uno dei vostri cavalli di battaglia e che adesso anche Renzi sposa, qualche critica la suscita? Perché qualcuno dice che è così soltanto i ricchi avranno i partiti e gli altri no. Siamo la dimostrazione che è esattamente il contrario. Togliere i soldi dalla politica dà effettivamente la possibilità a chiunque abbia intenzione di fare politica come un servizio, di farlo senza soldi. Non ne siamo l'esempio. Le ripeto, noi abbiamo rinunciato. Ecco, intanto state vedendo il... Sì, ne sono molto orgogliosa, mi permetta, come movimento e come segno nei confronti di un popolo, quello italiano, che ha delle gravi difficoltà. Gravi, gravi difficoltà. E le ripeto, noi 42 milioni che c'erano destinati come rimborso dei partiti non li abbiamo mai ritirati. Aspettiamo che gli altri facciano altrettanto. Voglio dire, se un movimento riesce in otto mesi a restituire 4 milioni da destinare alle piccole e medie imprese, ne rifiuta 42, quanto si potrebbe fare? Allora, sentiamo cosa dice Renzi, perché questo cavallo di battaglia, quello che era di Grillo, è diventato anche uno dei cavalli di battaglia del neo-segretario del Partito Democratico. Ecco. Sei disponibile? Hashtag Beppe, firma qui. A cambiare da domani mattina e a smettere di stare sul tetto del Parlamento e andare a votare in Parlamento e a cambiare le cose per le quali sei stato eletto. Abbiamo presentato l'appolizione del Senato otto mesi fa, siamo pronti con la legge elettorale da cinque mesi, Renzi arriva adesso e scopre che c'è da fare la legge elettorale. Il sindaco di Lebbettino, Lebbettino di Firenze, Lebbettino è, mi arrivo che io faccio schifo, lui è una bella persona, è pericolosissimo, è pericolosissimo perché è falsissimo, fa coppia in colla del programma nostro. Se non ci stai, l'espressione buffone vale per te. Renzi è uno dell'apparato, sta vendendo, sta svendendosi la città. C'è qualcuno che può ricordare cinque stelle gentilmente che li paghiamo in Parlamento perché risolvano i problemi, non perché facciano le sceneggiate. Renzi cosa pensa? Io non penso perché non mi faccio a pensare di Renzi. Te lo dice il tuo amico Renzi. Allora, senatrice Taverna, una volta si diceva a sinistra, voi non siete un movimento di sinistra, insomma, però una volta si diceva a sinistra, quelli di sinistra dicevano a sinistra non si vedono nemici, vengono da destra, insomma. E invece non è più così, nel senso che ormai le diatribe sono in casa, tra chi protesta. Cioè da una parte Renzi e da una parte Grillo e si insultano a sangue. Uno dall'altro del buffone, l'altro dall'altro del pentito. Renzi ha deciso di aprire questa diatriba con noi. Noi anzi eravamo ben felici di sentire questo nuovo all'interno della politica. Noi siamo un movimento totalmente nuovo e ci aspettavamo delle novità. Invece abbiamo visto uno show molto stile vecchia politica dove si chiede prima di dare. Ci aspettavamo che Renzi restituisse quello che ha già preso in maniera illegittima, non dimentichiamolo. Anzi facesse un gesto ulteriore, ne abbiamo detto restituisci anche i 6 milioni che hai incassato con le primarie. E invece ci siamo trovati che su una promessa di restituire... Ma quella è una tassazione personale, cioè chi ha votato ha voluto regalare 2 euro, non è che... Al partito e lui poteva fare questo gesto di restituirli di nuovo ai cittadini. Voglio dire... Le primarie sono costate qualcosa però, metterle in piedi, insomma. Dopotutto saranno fatti loro... Ripetisco, prendono comunque dei finanziamenti pubblici. Non erano soldi pubblici. Facciamo... Comunque le primarie sono organizzate con... Sì, ma hanno chiesto 2 euro e le hanno date. Non è che è diverso dal finanziamento pubblico. Assolutamente. Ripeto, poteva essere un gesto, non è che era obbligato a farlo. Questo no. Poteva essere un gesto, visto che lui sta chiedendo a noi di fare un gesto, noi diciamo fai tu quello che è di voto e poi prova a chiedere. Io devo dire... Antonello, ecco... Devo dire una cosa, senatrice Taverna. Secondo me la politica, voi, se mi permette, mi prendo la libertà di un consiglio. Dovete essere fruttivendoli e vendere la vostra merce. Il consenso, bisogna impegnarlo in politica. Anch'io percepisco un atto di strumentalità di Renzi che dice se faccio questo, poi voi fate questo. Se lui lo fa, perché ci crede, lo fa a prescindere dal comportamento dei 5 Stelle. Però qualche volta ai vostri voti fate ripesare di più. Il fatto di dire va bene, avanziamo su questa idea, produrrà per forza di cose un beneficio. Io condivido il fatto che molta gente, anche per disillusione, perché non ne poteva più, vi ha votati. Però quel voto deve, io non lo vedo resistente in Parlamento, di rottura nel Parlamento. Utilizzate di più il vostro segmento e anche la vostra forza di interdizione. Non ho ascoltato una cosa. Per esempio, abbiamo 5 livelli di governo, si dice giustamente tanto del finanziamento pubblico ai partiti, ma si può reggere uno Stato con 5 livelli di governo che sono sovrapposti, Stato, Europa, Governo centrale, regioni, province, comuni? E perché non ho sentito da voi una parola sulla cloaca, sulla vergogna nazionale, che è la quantità indiscutibile di danari che entrano in questa bocca grandissima chiamata regione e non escono più. Un grande lavoro, altro che le province. Le province valgono poco, ma costano poco. La spesa sanitaria è raddoppiata da quando ci sono le regioni? Noi abbiamo in Pibbio, italiano, il professor Perotti ce lo ricorderà bene, prima delle regioni e poi dopo le regioni, si è raddoppiato. Sì, ma mi permetta, il primo disegno di legge che è stato presentato è stata una revisione del titolo quinto, l'articolo 117, per riportare la potestà legislativa allo Stato proprio in materia di salute. Noi siamo coscienti di dove sono le problematiche. È pur vero che come opposizione risultiamo poco efficaci, ma non è così. Le proposte noi come Movimento 5 Stelle le facciamo, ne facciamo tanto. Abbiamo una maggioranza che ce le boccia tutte, sistematicamente. Sono le stesse proposte che facevano in campagna elettorale. Quindi rimane anche difficoltoso. Voi politica di alleanze non ne fate, però. Temo che sia... Come mai non fate politica di alleanze? Perché non vi alleate con nessuno? Nessuno è bravo come voi? No, non è questo il discorso. Crediamo che l'attuale panorama politico non sia credibile. E se dovesse entrare i forconi, per esempio, se dovesse entrare i forconi in Parlamento, perché qualcuno già paventa l'idea di darsi alla politica, se questo movimento diventasse un movimento politico che dice più o meno le cose che dite voi, tutti a casa... Noi non vogliamo un Parlamento che sia esclusivamente Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo un rinnovamento della politica. Se si propone sulla scena politica un movimento che sposa le nostre idee, che neanche è differente, ma che sia credibile, che sia nuovo e che sia coerente con quello che dice in campagna elettorale, questo è il problema. Noi vogliamo dei partiti che rappresentino il popolo. Se tu ti fai eleggere portando un programma in campagna elettorale, poi quando sei all'interno del Parlamento, lo disattendi. Ma chi stai rappresentando? Con chi mi devo alleare? Mi voglio alleare con i cittadini, con le loro idee e voglio portare avanti quello che i cittadini hanno bisogno. Allora, il finanziamento pubblico è sempre una cosa un po' odiosa, soprattutto quando i soldi pubblici vengono utilizzati in maniera singolare. Però lei percepisce una provvigione, che sono 3.000 euro... C'è uno stipendio, sì, sono 2.000 euro circa. Uno stipendio, che è frutto del finanziamento pubblico. Qualora non ci fosse più il finanziamento pubblico... Scusa Franco, il finanziamento pubblico è relativo alla funzione dei partiti, l'indennità... L'indennità pubblica è un'altra cosa. La vostra segreteria, le segreterie e gli apparati dei partiti politici si mantengono con il funzionamento del sistema fatto in questo modo, cioè con il finanziamento pubblico. Qualora non ci fosse più il finanziamento pubblico, questi soldi da dove arrivano? Non abbiamo una segreteria, noi il finanziamento non lo prendiamo e non ci sostentiamo con quello. Ma, mi scusi, ma servono questi apparati mastodontici con i quali i partiti fino ad oggi hanno prodotto una politica oltretutto completamente fallimentare? Non solo. Andiamo a vedere quello che dice il decreto legge che hanno intitolato abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e ci rendiamo perfettamente conto che non si sta abolendo nulla, ma si sta creando una nuova mutazione genetica né più né meno di quello che hanno fatto nel 1993. Allora non prendono i cash, però vogliono pagato dallo Stato le sedi, le bollette, i corsi politici e il 2 per 1000 che dicono destinarsi in maniera volontaria da parte del cittadino viene comunque preso da quello che so che il cittadino dà allo Stato dall'interno delle tasse. La politica è così screditata che nessuno, nemmeno regalato, vorrebbe dare un danaro. Ma non glielo vogliono più dare i soldi. Ma io credo che una decisione autonoma io voglio finanziare il suo partito ho diritto, posso, è equo, guardi domani non pensi ad oggi e veda che non dobbiamo più permettere un'altra idea il conflitto di interessi lei mi dirà già l'ha fatto e già l'avete presentato adesso che Berlusconi non c'è immagini domani che arriverà un altro non lasci la politica al ricco perché poi il ricco alla fine non tutelerà il povero alla fine della giostra in vent'anni abbiamo ricordato ci saluta Berlusconi ritorna ad Arcoleo nelle sue ville ma i lavoratori, la gente, gli italiani e anche gli altri partiti guardi che siamo 160 parlamentari il 25% e non abbiamo percepito un soldo non pensi all'oggi ma io penso a quello che deve essere domani voglio una politica così voglio una politica dalla base non voglio una politica finanziata dallo Stato un'ultima domanda ma lei non crede che davanti ai dati dell'Istat che sono dati che parlano di un impoverimento crescente della popolazione forse non sarebbe il caso di sporcarsi un po' le mani e di prendere delle decisioni non dire soltanto dei no ma anche di governare non stiamo dicendo solo dei no delle decisioni le abbiamo prese e sono proprio quelle di non sporcarsi le mani mi perdoni della politica che si sporca le mani ne fanno la spesa oggi tutti i cittadini non ci sporchiamo le mani prendiamo delle decisioni ma che sono delle decisioni come gli F35 l'IVA al 22% è frutto di questo governo non è frutto del Movimento 5 Stelle ed è stata fatta nel momento del balletto della fiducia è colpa mia, è colpa di te non è colpa di nessuno ricade sulle nostre spalle no mi dispiace ma le mani non ce le sporchiamo no mi dispiace ma le mani non ce le sporchiamo no mi dispiace ma le mani non ce le sporchiamo non ci sono le mie